I centri per immigrati e stranieri sono un fallimento, lo denunciano i dati dell'osservatorio sull'accoglienza in Puglia, uno studio condotto dall'Università di Bari che ha passato ai raggi X il funzionamento di CIE, CAR e SPRAR, le sigle dei centri di detenzione amministrativa degli stranieri. In Puglia operano due CIE, i centri di identificazione di Baripalese e Foggia, prigioni che per un anno e mezzo trattengono gli ospiti in attesa che la burocrazia formalizzi l'espulsione. Secondo la ricerca però è molto bassa la media delle stesse espulsioni, solo il 37% a fronte di quasi 9.000 detenuti dal 2006 con una media di 1.123 ingressi all'anno. Tre invece, i centri per richiedenti esilo politico, i CARA, hanno accolto 36.000 persone dal 2006, in gran parte ritrei sbarcati in altre regioni Sicilia in testa. 22 invece, gli ultimi nominati, gli SPRAR, i servizi di protezione per rifugiati politici che nei piani dovrebbero alleggerire i disagi e favorire l'accoglienza. In realtà ospitano solo 391 immigrati a fronte dei 600 posti disponibili, recentemente potenziati. È incivile e soprattutto costano tantissimo, c'è una dissipazione di risorse pubbliche che è davvero intollerabile. Ecco, cambiare la politica come sta facendo il governo in quest'ultimo scorcio dopo i fatti di Ampedusa, orientarla più a principi di accoglienza. È il primo passo per rimetterci nella prospettiva giusta. Vediamo che in effetti le strutture più soft costano non di più delle altre e funzionano sicuramente meglio.